Siamo alla terza giornata di campionato della seconda categoria girone B. L'atletico Pomarico si trova ad affrontare in casa l'accettura, dove nonostante l'impegno profuso il risultato è di 1-1. Andiamo ad analizzare la partita. Il mister Cetera prova il modulo 4-4-2, dove vede schierati fra i pali Caputo, in difesa partendo da sinistra Carioscia, Salerno, Calabrese e Lupo. A centrocampo Di Luca, Montano, Acito e Schiavone. In attacco Epifania Molinari. Inizia il primo tempo, Pomarico che spinge sull'acceleratore creando molte azioni nell'area avversaria. Ed è proprio al ventesimo del primo tempo che arriva il gol del Pomarico, con una canonata fuori area del capitano Angelo Montano. Finisce così il primo tempo e squadra negli spogliatori. Con l'inizio del secondo tempo, il Pomarico, forse galvanizzato dal risultato, perde lucidità. Infatti dopo pochi minuti arriva il pareggio dell'accettura. L'atletico Pomarico non ci sta, vuole la vittoria ed inizia nuovamente a spingere, creando innumerevoli palle e gol. Ma nonostante tutto, la partita finisce con il risultato di 1-1. Pomarico che avrebbe meritato la vittoria, ma che comunque porta a casa il suo primo pareggio. Una squadra che sta dimostrando di crescere di partita in partita. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti. Grazie.